Cappotina chiusa? Collocata? Controllata? Controllata, bene. A gangiare? Rara Radio, innesso 553, sottomento destro, 27, destra. Vericello Victor Mike, tendere il cavo. Compiato Victor Mike, tendere il cavo. Tutto a posto, Chiara? Sì, sì. Bene, così mi piace. Paura? No. Montagne russe? Sì, sì. E allora, guarda. Solo che noi andiamo su per più tempo. Che suggerire Stefano? Non tende? Ok, adesso è partito. Prendo il cavo. Ok, basta così, basta così, basta così. Vericello Victor Mike, all'antipromoto che avevo teso. Quanto l'agra? Vericello, l'acqua in corso. Chiara, partiamo, eh? Pronta? Sì. Un po' più di motore Stefano. Sono a contatto. Ok, va bene allora. Tutto bene, Chiara? Non parli più? Non parli più? No, no, parli. Che è successo? Bellissimo. Era successo, Chiara, che ti rifiutti? No, no, ho parlato perché non si sente. Ah, ok. E un attimo andare a 300 metri d'altezza? Sì. È la prima volta che sta chippinando la terra? No, perciò è libero. Ma è quelli di linea? Sì, è diverso. Sì, quelli sono dei... Via Rimpace, via Zabano, per la 0,9, Erba. Eccolo sotto, guarda, l'amico. Lo vedi laggiù che sta atterrando? Sì. Tutto bene? Sì, sì. Passano mi dici quanti laggi studenti abbiamo fatto? Mi dici quanti laggi studenti abbiamo fatto? 575-53, liberato, va? Sì. 716. La bimbi ha mai vista ferrara dall'alto? No. Piccole le macchine. Sì, più o meno siamo a 300-400, 300 metri, siamo qui, siamo staccati a 350 metri, siamo a 300 metri, tanto devono ancora tendere i cavi, Grazie a sedersa la Verosca, la nostra squadra è riflessiva. La Vembe Rosca ha lanciato i paregaduttisti, Sì, c'è del tempo. Sì. Sì, c'è del tempo. Sì, c'è del tempo, per i sicuro casi, auto, pronta a tendere. Sì, come è? Possiamo attendere i cavi, c'è un'attività? Sì, sì, affermativo, sono un po' in tempo. Auto, c'è un'attività. Piano, auto, piano. La Carone ci torna a osso, la rizzeria l'antica con i ragazzi. Di quanto abbiamo adesso? Stiamo scendendo. Stiamo scendendo, dici? Non so. Guardi in basso, a sinistra, che c'è quel fare che dice 3, tra il 3 e il 4. In basso, sì. Sì, c'è un nel cockpit. Ah, sì. Adesso dici? Siamo quasi con Crescento. Esatto. E prima eravamo a? Crescento. Un miracolo, hai visto? Sì. Il paracadottista. 400 metri. È bufo, eh? E siamo più pesanti nell'aria. Siamo più pesanti dell'aria. Ok. Eh? E' l'aria che è verticale, sale. Grazie a tutti. Sì, sì, sto scendendo, guarda. Ferrari Radio Vincor Mike è in prenotazione per la... Sì, 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 ma sto scendendo. Sta scendendo parecadottisti. Fausto, per quello che avevo guardato. Mi era da quello. Sì, sì, ma sto scendendo. No, vabbè, c'era 2 metri e mezzo l'intestante, adesso mi lo dico. Ok, 3 metri, il Vincor Mike è in prenotazione per la sua destra. Sì, sì, ma sto scendendo. Sì, sì, ma sto scendendo. Sì, ma sto scendendo. No, vabbè, c'era 2 metri e mezzo l'intestante, da ci vorrei dire. 50 metri, inizia a rallentare. Ferrari via, stagliato la bel Ancara, in scena, potendo l'altra, la seconda, 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 la seconda. Ora il raso, dico ormai che è in sottovento destro, pista 0-9-erro. Ora per poter scendere meglio, ho bisogno di rompere i filetti fludi. Vedi che sull'alo ho aperto questa cosa strana? Questo mi permette di poter avere un rato di discesa migliore rispetto a quello che avrei. Diversamente non vengo giù. Sì. 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 Questa qua era la radio di un picco ormai che in base era una verba. Sì, non c'è nessuno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.